Oggi volevo parlarvi un attimo di quello che facciamo, di quello che facciamo in maniera diversa e facciamo una lezione incentrata sul perché non curiamo tutti i pazienti, perché curiamo solo alcuni pazienti e altri pazienti non possono accedere al policlinico, che è poi una diretta conseguenza del fatto che ci troviamo in Moldavia e voi direte come, siete in Moldavia che c'entra questo con non poter curare tutti i pazienti, c'entra, ci sono stati questi giorni dei post qua sul gruppo, proprio una discussione che c'è stata ieri, l'abbiamo trovata, mi raccomando se dovete fare i biglietti, lo dico per chi sta, chi guarda in streaming andate a fare i biglietti che in genere questo è il periodo dove costano meno, discussione lunghissima, andatevela a leggere questa sul gruppo, paziente che come tanti ci fanno richiesta, però non possiamo fare seguito alla richiesta e andare a accettarli perché sono pazienti che richiedono fondamentalmente di essere sconnessi dalle automazioni informative, pazienti che magari non devono curare tutta la bocca, non li prendiamo in cura, pazienti che vogliono curare solo una parte della bocca, non li prendiamo in cura, pazienti che ci chiedono non mandatemi più mail, video, non li prendiamo in cura, pazienti che sono forti comparatori, non li prendiamo in cura, per esempio paziente che non è prezzo per qualità ma è prezzo per prezzo, perché siamo un centro ricerca qua dove facciamo un lavoro di un certo tipo e non possiamo riempire e ingolfare il policlinico di richieste che poi ci portano in affaticamento, siamo già tutti molto stanchi, quindi cerchiamo di ridurre perché sono casi molto complessi quelli che facciamo, se andate in laboratorio, se vi hanno fatto fare il tour del laboratorio vi rendete conto della complessità che c'è per arrivare a un'arcata finale, a un'arcata finale per esempio superior o una metalloceramica voi penserete vado da Palmas mi fa i denti, no io da solo non saprei fare superior, il tecnico da solo non lo saprebbe fare, il chirurgo da solo non lo saprebbe fare, l'odonto tecnico da solo non lo saprebbe fare, è un lavoro, quello che facciamo è un progetto lungo che dura un anno, ci sono anche imprevisti che vanno risolti, è come un aereo che sa dove deve arrivare però il 99% del tempo è fuori rotta, devi sempre aggiustare e fare gli aggiustamenti necessari, serve lucidità, calma e in quel poco di tempo che abbiamo comunque abbiamo tante richieste, quindi servono dei filtri. Primo motivo quindi per cui non curiamo i pazienti, tutti i pazienti è perché non possiamo curare milioni di malati, siamo un centro e quindi dobbiamo cercare di in più fare anche sviluppo di quelle che sono le linee del futuro e abbiamo necessità di dedicarci a pochi casi, pochi pazienti rispetto alla moltitudine di malati che ci sono, se noi andiamo a vedere quelli che sono i pazienti in Italia, in Europa senza i denti noi stiamo facendo proprio un granello di sabbia, abbiamo poi richieste da altre cliniche, voi conoscete, da altre cliniche, da altri paesi, voi conoscete SOS Turismo Dentale, però se vado, andiamo sulla pagina SOS, pagina, no scusate ho sbagliato, sono talmente tanti profili che, anche io per entrare, ecco qua da qui, quello che non conoscete SOS Turismo Dentale, SOS Turismo Dentale, Rehabilitazione Estremes, c'è anche in russo, tedesco, chiaramente voi non le vedete queste perché ogni pagina si vede in una nazione diversa, questa per esempio è la pagina portoghese, quindi c'è solo una parte, ma c'è un iceberg sotto di richieste che arrivano che non vengono prese in considerazione, tra queste ci sono, vi dicevo, i pazienti per esempio che devono curare una parte della bocca, per quale motivo? Secondo voi non possiamo permetterci il lusso di curare un paziente che cura solo mezza bocca e lascia l'altra metà bocca con la parodontite per esempio, oppure con vecchi ponti che ha? La garanzia? Sì, la masticazione perché magari c'è il coperchio che è storto e mi chiede di fare la pentola dritta, però se non cambia anche il coperchio quella sfiata non chiude, oppure la devo fare la pentola nuova ma storta per farla chiudere col coperchio, oppure quale altro motivo potrebbe essere? Potrebbe chiudere il policlinico se magari girano foto, iniziano a girare foto su internet di bocche a metà? Potrebbe, sarebbe un grosso problema reputazionale, brutta pubblicità, però chi la vede non capisce che quelli erano i denti del paziente, oppure che quei denti, quelle capsule rote con la piorrea sono denti che non sono stati parte della terapia. Voi provate a pensare, paziente che entra al ristorante, si porta il piatto da casa, scheggiato, noi facciamo il piatto e ci chiede di usare il suo piatto, mettiamo lì, fa la foto e la mette su TripAdvisor, è la stessa cosa, lavoriamo, noi è un'azienda che lavora con le recensioni, con la reputazione su internet e su internet non c'è distinguo tra quello che hai fatto tu o quello che hanno fatto altri, oppure se ti vogliono infangare, quindi noi dobbiamo avere iperrestrizioni, iperfiltri da parte di chi ci odia, perché non tutti ci amano, ci cercano, ci fanno spionaggio industriale, ci mettono le talpe in azienda, provano a arrivare al database, provano a rivendere i dati, magari il paziente riceve un preventivo e poi ne riceve altri 5 di altre cliniche, non so se a voi sarà capitato, perché comunque diamo fastidio, se diamo fastidio noi ci dobbiamo iperdifendere e per iperdifenderci dobbiamo essere iperrigidi nel filtro di chi facciamo accedere. Il paziente che entra, che è comparatore per esempio, appare come comparatore, invece entra, si infiltra nel policlinico, semplicemente magari che ne so, per mettere un topo in sala sterilizzazione fa una foto, faccio un esempio, si può fare? Si può fare, certo si può fare, oppure supponiamo, per quello ci sono telecamere da tutte le parti, però ogni problema c'è una soluzione, per ogni problema ora vi spiego per esempio, immaginate qual è la connessione che c'è, se ci chiedi di non inviarti più video e sms informativi e noi ne abbiamo una valanga di automazioni che mandano in continuazione dei video informativi, tutti questi video informativi sono dei video che vanno piano piano a istruire il paziente in un percorso che durerà poi anni, perché poi ne continuerete anche a ricevere video, tutte le informazioni che servono al momento giusto, perché se noi dessimo tutte le informazioni in un unico momento, quello che ottieni è che il paziente fa come il polpo, schizza ma non si cura, rimane nella malattia, rimane nell'immobilità, per quello che in medicina il paziente ha un problema grave, il medico non deve stare lì a fasciargli la testa con tutto quello che sarà il percorso riabilitativo, come va dottore? Tutto andrà bene, quello è un bravo dottore, nel senso che sta già facendo la psicologia sul paziente e gli fa capire che è un percorso che si può fare, ma se tu invece metti informazioni, troppe informazioni ottieni un sovraccarico emotivo del paziente che alla fine si blocca, è il blocco principale e il procrastinare, il nemico numero uno poi della piorrea, della parodontite, quello che purtroppo noi facciamo è curare poi in Moldavia, e questo è il motivo per cui noi non accettiamo pazienti che si sconnettono da noi, pazienti che richiedono di non essere informati, è un po' come dire vuoi la patente ma non vuoi fare la scuola guida, perché noi facciamo solo dei denti, degli impianti, ma poi ci sono tantissime cose che vanno fatte a casa o durante la fase di guarigione, oppure prima della fase di cura, ci sono tante informazioni che uno deve sapere rispetto alle chirurgie, alle ricostruttive, agli impianti dentali, anche ai problemi logistici, l'aspetto logistico, non possiamo noi far venire in clinica persone che dobbiamo iniziare quando arriva l'informazione, il paziente inizia ad essere pronto che è già il momento di ripartire, quindi tutto quel processo formativo di preparazione che arriva per mail, sms, facebook, anche dentro al gruppo, fa parte della preparazione al primo viaggio, se noi non facciamo questo ci troviamo poi qua in clinica pazienti istruiti, assieme a pazienti che vogliono saltare la fila, che vogliono saltare la lezione, cavalli imbizzarriti, la sala d'attesa dov'è? Al centro del policlinico, voi immaginate a dover gestire tutte queste problematiche con le problematiche anche chirurgiche e alberghiere, quindi il paziente deve arrivare in clinica già informato di tutto quello che sarà poi il percorso che deve succedere, ma le informazioni che diamo sono fondamentali poi per lavorare, sono propedeutiche, non ti posso far fare la quinta superiore se prima non fai la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, ti metto in una classe che poi mi rallenti la classe, questo è uno dei motivi per esempio per cui non è possibile prendere in cura, far accedere in clinica chi chiede di non seguire le lezioni. Se segui le lezioni allora vai avanti nel percorso e arrivi anche a ricevere magari un preventivo, perché il preventivo poi è solo una, è inutile il preventivo che si riceve a distanza e il percorso formativo serve proprio a far capire questo ai pazienti, perché noi abbiamo un paziente che crede che a distanza si può fare diagnosi per telefono e dobbiamo prima portarlo da uno stato A a uno stato B e per questo serve uno dei mesi, delle informazioni e capire che invece bisogna fare esami diagnostici, radiografie, vedere la taglia del viso del paziente, visi piccoli, visi medi, larghi, 8 impianti, 6 impianti, 4 impianti, non è solamente come andare al market un chilo di zucchine o un chilo di peperoni, prezzo per prezzo, comparo e poi non sai cosa c'è dentro perché leggi solamente il prezzo, poi torni a casa, che ti ha detto il dentista? 7 mila, quello 9 mila, vai a vedere dentro c'è 7 mila impianti fissi, 6 mila a dentiera mobile, sono due cose completamente diverse, però se il paziente non ha gli elementi per leggere il preventivo, perché è della cosa più sbagliata che c'è fare il preventivo al paziente in questa maniera, perché è come andare dall'elettrauto, vai via dall'elettrauto con bullone blu, brugola, utilizzo della brugola, fusibile, ok, quanto è alla fine? Quello, vai a vedere e non era un elettrauto, era un idraulico improvvisato, che in quel giorno si è vestito da elettrauto perché magari gli portano clienti con i volantini sulla strada senza filtrare chi arriverà a lui, ogni volta si deve vestire un abito diverso, ok, pazienti comparatori che arrivano e non sanno perché ci stanno facendo richiesta e perché verranno da noi, è meglio non prenderli, deve il paziente che si rivolge a noi sapere che quello è il policlinico per quel caso, magari un paziente invece estetico che deve fare un certo tipo di trattamento ortodontico, allineare i denti è meglio che neanche fare richiesta qua da noi, ma io voglio sapere il preventivo, allora tu lo fai accedere se non fai questo filtro e c'è il rischio di cosa? Recensione negativa, ogni tanto qualcuno passa, ok, recensioni negative possono capitare, possono capitare le recensioni, uno per esempio qua, appartamenti ve li fanno pagare 35 Euro al giorno, se avesse seguito il percorso formativo avrebbe capito che non era una questione di 35 Euro l'appartamento, è il servizio turistico di assistenza, di problemi, risoluzione, tv nell'appartamento italiana, Inga, Iana, Alina, le ragazze, la domenica, il pick up da, per l'aeroporto, tutto quello che è il corollario turistico che si aggiunge a la? Quello che vuoi, tu puoi decidere se andare in barca o che andare fino a Genova da Olbia o se farti la crociera, sempre a barca stai prendendo, l'esperienza è completamente diversa, ed è fondamentale un paziente che sta 7-10 giorni all'estero dare l'esperienza, voi immaginate se io lasciassi solo la clinica dentistica, ti spari, ti spari più volte, ti spari perché non muori, ok, già è pesante così e stiamo per quello sempre facendo programmi, programmi, iniziamo dalla mattina, ok, qual è il programma di oggi, cosa c'è da fare per i pazienti, c'è il tour in centro, stasera all'aperitivo alle 6, oppure dopo si va, sono momenti di aggregazione, perché quando un paziente si aggrega, si sente intanto uno meno disabile e lì torna la psicologia del malatto, si sente meno impaurito in un paese che non conosce, ok, e c'è un traduttore che lo può aiutare in un paese dove non c'è la lingua, voi non state sempre percependo la paura della lingua, perché avete tutto personale che sta parlando italiano tutto il giorno con voi, se però noi parlassimo avreste un grosso problema, un serio problema di paura di quello che dovete fare, paura perché non capite quello che deve succedere, quello cosa fa, mi apre il palato adesso, entro lì, sono tutte figure in realtà quelle di Ingaiana di supporto psicologico in realtà, camuffate da assistenti turistiche, ma in realtà sono delle persone che sono veramente brave con la psicologia del malatto, gli ho fatto i corsi, gli ho fatto i corsi su come va trattato un paziente, ci sono poi delle volte, vi faccio un esempio, pazienti che sono più depressi, più negativi, ci possono essere pazienti che vedono sempre il negativo, pazienti che vincono un milione di euro alla lotteria perché non ho vinto due milioni, ci sono queste persone, si sta tutti insieme, sono tante psicologie diverse, è importante avere delle persone che sono un pochino attenti a capire chi va con chi e chi con chi e cercare magari se il gruppo è troppo grande di dividerlo e prendersi cura di un gruppo e di un altro gruppo, tutto questo aspetto qua di corollario è fondamentale, non è l'appartamento, l'appartamento c'è a meno, si trova, non ci sono tutta una serie di servizi come per esempio ti si blocca l'acqua, l'elettricità, chi chiami l'elettricista in rumeno o l'idraulico, tutti i proprietari non parlano italiano e ne abbiamo avuti tanti problemi, uno anche l'altra settimana è venuto, ha preso in maniera autonoma l'appartamento, l'hanno fregato, chiedete a Inga, l'ha fregato che gli hanno fatto una truffa dove alla fine per bloccare, uscire dall'appartamento doveva pagare l'intero importo comunque, perché ti fanno comunque i contratti in rumeno e se tu non fai loro comunque tu sei in terra straniera qua, ti spaventano e ti fanno… anche nella comunità europea quindi… bisogna essere guidati, soprattutto quando non c'è la lingua che si parla allo stesso modo, altra cosa qua dove diceva, non serve rispondere, servono queste, io le lascio le recensioni tutte, non rispondiamo mai perché sono un ulteriore filtro, una recensione come questa, chi ragiona così? Non viene, meglio, chi ragiona così? È un filtro automatico questa… negativa… no, le persone… però negativi sono quelle… le ha reputazioni, il sistema reputazionale è autobilanciante, quando inizi ad avere comunque tante recensioni, ok, non ha più senso neanche andare a rispondere perché le persone autorispondono o gli altri che già ci sono stati rispondono, non ha senso, quando noi lavoriamo tanto sulle… con le recensioni, che poi non sono recensioni, ricordatevi che sono diari di bordo, che sono sempre aperti, ok, questo è il vantaggio delle recensioni che in realtà non dovrebbero essere chiamate recensioni, è quando una cosa è finita, ma in realtà non si finisce mai, perché dobbiamo dare poi l'assistenza, il supporto dopo le cure, dobbiamo garantire, quindi noi facciamo sempre aprire ai pazienti il loro diario di bordo, ok, 786 qua, non tutti la aprono, ma se noi abbiamo 4.9 su 786 ce ne vuole e ti devi fare un mazzo per mantenere questo livello qua, se io vado a vedere magari altre cliniche, ditemene una, boh, Martinko, questa se ne parla è croatta, questa Martinko, review, 4, ok, quando iniziano ad essere molte le recensioni si avvicina molto di più la media alla media reale, perché fa una media ponderata praticamente, ora hanno cambiato anche il sistema di recensione e l'hanno reso più preciso, o ti piace o non ti piace, non ci sono più le stellette, perché iniziano ad essere molte le recensioni e quindi non serve neanche dare la stelletta, o sì o no, alla fine è quello che ti dice un amico, ma ok, me lo consiglio o non me lo consigli? Ma quanto me lo consigli? Non ha senso quanto me lo consigli, o sei promosso o sei bocciato, non c'è. Un'altra clinica, che ne so, turismo, dentale, Albania, vediamo se trova qualcosa, queste cinque, è un'ottima clinica questa, 135, ok, bilanciate sempre il voto rispetto a quelle che è la recensione, la quantità di lavoro e soprattutto a quello che rendono pubblico, questi che impianti sono? Avvitati o incollati? Incollati, ok. Poi c'è anche da parlare del fatto che il paziente, anche che lascia la recensione, non ha neanche gli elementi per valutare il lavoro che è stato fatto, perché andiamo in un campo iper specialistico e allora può succedere che le persone iniziano a comparare prezzo per prezzo, perché non hanno voglia di studiare e andare lì a capire veramente quello che devono fare, come va fatto. E allora lì subentra il sistema di pilota automatico che ha l'uomo, che se dovesse stare lì a valutare in maniera precisa tutte le cose che deve fare per prendere una scelta, le donne lo fanno, l'uomo meno, tende più a… ok, facciamo quello, me lo sento. La donna va a vedersi tutte le cose, perché è supportata, 3 miliardi di neuroni in più, è supportata. L'uomo invece da quel punto di vista è più semplice, tende un pochino più a andare in maniera semplice nelle scelte. Allora quello che può succedere è che le persone per pigrizia mettono lo stand by, non lo stand by, il pilota automatico. E allora va bene, mi voglio fidare, fallo tu. Ok? Il classico mi voglio fidare, facciamolo, mi sento che va bene, mi sento che… e allora per questo si tornano a basare solamente prezzo per prezzo. Oppure prendono dei parametri che non sono così determinanti, per esempio la distanza. Mi curo da… che insomma, mio cugino che sta sotto casa, è perché mio cugino me lo farà meglio. Chi è che non c'aveva di voi, il dentista amico. In genere i pazienti o un dentista sono prima di tutto gli amici. Ok. Poi quello che succede magari… Allora, vediamo qua… Ma per fortuna ho trovato cliniche più serie in Albania, Croazia e Bulgaria. Su che elementi? E soprattutto più serie? A te serve una clinica che è specializzata per il tuo caso o una clinica più seria? Più seria è un parametro che non è né misurabile né si sa qual è il parametro che hai preso in considerazione per dire più seria. Se la velocità di risposta è serietà, però poi ti faccio i denti incollati. Oppure sto vicino sotto casa, però poi ti faccio i denti incollati. Oppure il prezzo è leggermente più basso, però ti faccio i denti incollati. Oppure un altro parametro di serietà può essere il fatto che non ti mandi video prima. Un paziente qua si lamentava, la persona che gli mandavamo video prima di mandare il preventivo. Per quello che vi dicevo prima, io non posso dare un'ipotesi di spesa, non un preventivo, è un'ipotesi, una quotazione. È come che io ti mando il listino prezzi. Ok, fatti tu la pizza come vuoi. Ma non sappiamo esattamente che tipo di chirurgia va fatta, quanti impianti ci vorranno, se potrai mettere tutti i denti, se potrai mettere in linea superiore oppure una linea semplificata perché le articolazioni sono usurate, oppure perché sviluppi molta forza, allora gli è meglio usare materiali molto più resistenti. Guardate per esempio lui, lui spacca un dito se gli mette in bocca. Figuriamoci se non spacca i denti, se ci va qualcosa in mezzo li rompe sicuro. Va calibrato in base al viso, va calibrato, ok? Un viso più semplice come il suo più piccolino sviluppa meno forza, il suo sviluppa molta forza, per esempio. Lui è una taglia large, come lui. forte, forte, forte. Quando ci sono questi pazienti, per esempio, alcuni messaggi li hanno cancellati, allora ascolta, a me non interessa la storia, mi interessa il preventivo. Voi faccio, noi abbiamo un ristorante qua dove ci sono i migliori chef, ma proprio a livello mondiale. Sono chirurghi questi che se vanno in America, loro non tornano più qua, da quanti soldi gli offrono, per l'esperienza che hanno accumulato. E non glielo diciamo, ok? Teniamoceli buoni, perché stanno facendo un grosso servizio e non gli interessa quello, hanno una famiglia qua, i figli qua, non gli interessa quello, gli interessa fare pubblicazioni scientifiche. fare corsi qua in Moldavia e far crescere la Moldavia nel mondo. Tu immagina che io ho un ristorante, tre stelle Michelin, dove c'è i migliori chef, entri, c'ho fame, ok? Voglio mangiare. Ok, cosa vuoi? Ti do il menù, voglio questo e questo. Un'ora da aspettare, te lo dico, cioè un'ora da aspettare, perché? Dobbiamo preparare gli ingredienti, cuocerli al momento, non è tutto surgelato, fast food. Se vuoi mangiare veloce c'è McDonald's, vai là. Noi qua abbiamo gli chef per un motivo, li usiamo, ce li abbiamo, li usiamo gli chef. Se no, tolgo gli chef e faccio i frigoriferi, ok? Scongelo e metto e scaldo al microonde. Ok, aspetto un'ora. Nel frattempo, quell'ora, ti devo preparare ad apprezzare quello che mangerai. Allora ti inizio a dare un iPad dove c'è la storia, intanto, degli ingredienti che verranno utilizzati dallo chef, ma ti racconto anche la storia dello chef. Ti racconto dove si è specializzato, i corsi che ha fatto e in cosa è specializzato, se sa fare più carne o pesce e perché ti abbiamo consigliato quel piatto, perché in realtà il menù non c'era lì. Ti ho dato il menù di quelli che sono i prezzi, ma poi lo tolgo e ti dico, occupati di stare bene, noi ci occupiamo di far stare bene te. Perché gli chef e chi ti verrà ora a parlare è la persona che identificherà cosa tu è meglio che mangi oggi, ok? Per quello che è stato quello che hai mangiato ieri, per quello che magari è il tuo peso forma, per quello che è la serata e quello che devi fare dopo la serata. Magari ti faccio anche un questionario dove ti chiedo esattamente quali sono i tuoi gusti. Ti tratto in maniera non da McDonald's, non lo fa questo. Lui dice, ma a me queste cose non mi interessano, ok, alto, fermo un attimo. Quanto è alta la probabilità che gli porto il piatto e mi dice, eh ma è poco? Non mi piace, è alta. E che mi fa recensione negativa? È alta. Ok, pazienti così sono i comparatori prezzo per prezzo, sono pericolosi per chi lavora con la reputazione e chi vuole fare cose di qualità. Perché soprattutto nella sanità non è solamente prezzo per prezzo, ma è un percorso riabilitativo dove se non c'hai chi gioca la partita dall'altro lato, è alta la probabilità di non riuscire. Se non fai l'igiene domiciliare, se non fai i controlli e se non ti limiti visivamente in quello che mangi. Eh ma io pensavo che i denti non si rompevano, provvisori. Che c'hai mangiato? Il torrone. E avete fatti male i denti provvisori, non si possono rompere. E vagli a spiegare che allora lì devi riniziare dalla prima dell'anno. Abbiamo fatto tanto terrorismo per i provvisori, facciamo tanti video dove facciamo vedere i denti rotti, quella fa parte della scolarizzazione, come le sigarette. Fai vedere i denti rotti, così i pazienti evitano di crearsi problemi e capiscono che i denti, gli impianti non sono innervati, non sentono il caldo e il freddo. Sono denti artificiali che quando arrivi al punto di rottura è già tardi. Cioè ormai è rotto, te ne sei accorto perché era rotto, non è che hai sentito dolore, la visaglia che stavi premendo troppo forte. C'è un residuo che rimane nelle articolazioni di propriocezione, di sensibilità di dove sta grossomodo la mandibola e di quando premi l'osso che flette, ti dà il periosteo che è quella, avete mai mangiato l'agnello, la costoletta, quello è il residuo che rimane. Però quando sentite quello state già sforzando. Quando si supera poi il limite di rottura, recensione negativa, si è rotto. Serve il processo educativo. Questo è uno degli esempi che vi ho fatto, quello del ristorante, per spiegarvi perché dobbiamo fare dei filtri. Ci sono filtri di pazienti che non vogliono giocare la partita, è meglio neanche iniziare. Quando invece un paziente ha preso in gioco non solo di andare all'estero, non solo di mettere un bel bilancio economico per i prossimi anni, per i prossimi mesi ci sono pazienti che spendono apparentemente poco, 10.000 euro, ma di poco dipende da quanto guadagni. Potrebbe essere tantissimo che ci metti 20 anni, rimetterli da parte quei 10.000. O potrebbero essere criticità, quindi hanno preso in conto di prendere un rischio. Un'altra cosa che abbiamo fatto è fare il pagamento anticipato. Noi cosa facciamo? Chiediamo ai pazienti che vogliono iniziare la partita di fare un grosso sforzo. Perché? Per quale motivo? Perché siamo sicuri che l'importante è quello. Bravo. Questa è la risposta. Un paziente che fa un grosso impegno si sta impegnando nella terapia e proseguo della terapia. Se noi invece facessimo un piccolo acconto iniziale, avremmo tanti pazienti a cui abbiamo tolto i denti, messi due o tre impianti che girano per l'Italia, che non hanno più una soluzione. È meglio neanche iniziare. Allora è meglio che ci sia uno scoglio iniziale che poi alla fine è strategico perché ci crea differenziale tra le spese, quindi le uscite spese e quello che entra e quel differenziale da lì cosa esce fuori? Ricerca, sviluppo e gap rispetto alle altre strutture. E quindi sicurezza per i prossimi vent'anni, perché se uno si cura poi all'estero, ha bisogno di cosa? Centra assistenza in Italia. Come li apri centra assistenza? Come migliori il servizio? È un'azienda che deve essere sana quella. Per essere sana l'azienda non ha bisogno delle banche, ha bisogno di uno sforzo comune di chi se ne serve di quel servizio. E anche chi versa tutto al ministro, è certamente più motivato di un'ottimità. Certo. Noi abbiamo un tasso di abbandoni, cioè di persone che interrompono la cura, che è inferiore al 2%, perché abbiamo il pagamento totale anticipato. Se poi c'è una differenza in più o in meno, quella si salda al secondo viaggio. Però se tu questo non lo sai, c'è il rischio. Non è assolutamente. Il loro obiettivo è prendervi quei soldi che avete in contanti, per loro siete un contenitore di soldi. Fanno tutto per averli. Non fatevi ingannare dai loro video e sorrisi. Ok. Questo è quello che uno può pensare. Sono persone che non sono in genere in grado di prendersi con responsabilità una scelta importante nella vita. Perché se io decido di curarmi, e ho capito che quello è il centro tra pianti dove farò le terapie, se parto è perché so di potermelo permettere, di poter mettere la terapia a bilancio. Ma se io parto senza poter affrontare la spesa, allora lì mi sto rimettendo in una spirale. Non dovresti partire neanche. Ok. Quello che si è sempre fatto in passato è andare a fare lo split payment, si chiama, il pagamento diviso. Pago quello che faccio. Tappo una buca. Il tappo una buca non esiste da noi. Non deve esistere in medicina in generale. Perché dovrebbe essere in realtà tutto il pagamento totale fatto dallo Stato. E lì entriamo nel tema del libro. Però il fatto che esiste la sanità privata crea il problema economico. Il medico cattivo, non buono, chiamiamolo così, è il medico che non ha una visione globale dell'apparato. Ma che dice ok, ti metto questo cerotto qui. Ti estrago sto dente, ma ti tengo la parodontite. Ti metto un impianto qua dove è caduto il dente, ma gli altri tutti stanno marcendo. Poi torna e si crea anche la perimplantite. Ci perdi l'impianto che hai messo. E ce ne sono tanti i pazienti che devono togliere denti, impianti scusate, che hanno già messo, hanno iniziato terapie e devono rispendere altri soldi. Se ci fosse stato un altro approccio, ovvero l'approccio globale, si chiama il trattamento integrale, dove io ci metto mano ma devo risolvere tutto, allora non ci sarebbero tutti quei soldi buttati che ci sono stati. E molti hanno buttato soldi perché non c'è stato l'approccio globale. L'intervento preventivo su tutta la bocca, perché poi i batteri girano dappertutto. Io non posso, che ne sorcio il piede in cancrena, taglio un dito. Oppure metto lo smalto sopra le unghie. E' così. Cioè se il paziente viene, non posso permettermelo, fammi che ne so, le faccette sui denti che muovono in piorrea. Ma c'è chi lo fa. Ok? Pur di prendere i soldi. C'è chi lo fa. Noi non lo possiamo fare per quale motivo? Torniamo di nuovo a Boomerang. Perché se poi ti cascano i denti dopo un anno, ecco il lavoro fatto da SOS Turismo Mentale. Perché non sono responsabili queste persone. Non capiscono in realtà la responsabilità se sono scivolate sul pavimento bagnato. Non è che io non ho messo il cartello, è che tu ci sei passato col pavimento bagnato. C'era, non so se... C'era una storia proprio su responsabilità che mi avevano raccontato che era della Bobbit. Chissà ricorda la Bobbit. Bobbit. Quella che ha costretto milioni di uomini nel mondo a dormire sulla pancia. Quando bisticciano con la moglie. Se no, Zack... C'era stato questo caso in America della signora Bobbit che aveva bisticciato il marito, la tradiva, era uno stronzo lui, obiettivamente, aveva una brutta storia alle spalle. Un bel giorno si sveglia e deprende. Mentre dorme l'idea gli viene di tagliarlo. Ok, il marito. Va in campagna e lo butta chissà dove. Povero poi il poliziotto che è dovuto andare a cercarlo e a ricucirlo. Lui sta a posto. Ok, però che lui fosse cattivo, che lui non fosse un bravo marito, eccetera, questo non può essere la scusa per fare un qualcosa di questo genere. Ok. Le persone, soprattutto, poi, quando si tratta di malattia, fanno come i bambini, faranno di tutto per non essere responsabili, per non sentirsi irresponsabili. Di fronte alla malattia. Anche persino in stadio terminale. Diranno, eh, ma ho avuto il tumore ai polmoni perché sono sfortunato. No, è che fumavi 20 anni. Se sei responsabile, non vai a denunciare il medico che non te l'ha diagnosticato gli ultimi due mesi. Ma dici, ma perché ho fumato per 20 anni? Nel mondo delle assicurazioni oggi c'è la denuncia facile, c'è il non voler essere responsabili di quello che ci succede, di quello che otteniamo. È sempre colpa degli altri, non è mai colpa nostra. Se si rompono i denti non è colpa nostra. Ok, se non potrò finire le terapie non è per colpa mia. È colpa tua che hai preso una scelta che non dovevi prendere. Se per esempio vieni all'estero per mettere due impianti dentali, c'è stato in passato, altri esempi, pazienti che devono fare piccoli trattamenti, vengono bloccati perché spendono di volo alloggio di più. Se uno deve, non conviene. Però c'è chi non lo capisce, magari non si vede i miei video, non gli spieghiamo le cose perché magari passa i filtri, arriva per vie traverse. In genere questi sono solitamente parenti di amici, di pazienti o familiari di pazienti. perché se voi avete da fare il trapianto di reni, non è detto che tutti i vostri amici devono fare il trapianto di reni, anzi quasi mai. I casi come i vostri sono mosche bianche, molti sono più quelli con la parodontite, con parte dei denti, molti di più nella popolazione sono quelli che hanno uno o due impianti. Quindi la riabilitativa estrema della bocca è una parte di nicchia molto piccola. È un centro che fa come noi solo questo, sono pochi centri nel mondo. Tutti gli altri sono centri che fanno fetta più grande dei malati, sono casi più intermedi o casi iniziali. Per esempio altre cliniche, non so, pulizia a 19 euro, avete mai sentito? Pulizia dei denti a 60 euro, che vi fanno le offerte. Saranno quelli centri specializzati in? Io vado a pesca, metto il pesce piccolo, pesce piccolo. Ok, se vai a prendere la balena non ti serve la rete, è diverso. Quindi l'esca che tu metti, quelli sono i pazienti che entrano in quegli studi, avranno tutto l'apparato di clinica, dottori, parco macchine, che è tarato, calibrato per quel genere di terapie. In odontidiatria le terapie sono varie, su diverse ci sono centri, vi dicevo, specializzati nell'igiene, nello sbiancamento, nell'ortodonzia, nella implantologia, ma anche l'implantologia è troppo generico. Uno, due o riabilitativa completa o maxillofacciale, come noi. Noi facciamo maxillofacciale, siamo una spanna più avanti, dove qua si fermano loro e iniziamo noi. C'è il rischio che arrivi che c'è il raffreddore in un centro trapianti. Ok, lascia il recensione negativa perché ho speso di più in volo alloggio. Tu che non avevi capito, quello era un centro trapianti e sei andato fino a Berlino per curare un raffreddore. Se mancano tutte queste informazioni può capitare, noi non ce lo possiamo permettere, quindi siamo molto rigidi nei filtri che ci sono prima. Qua ci hanno segnalato che il paziente per esempio aveva avuto parolaccia, ha preso la parolaccia al telefono, il back office. Immaginati se lo faccio arrivare in clinica, che ci serve serenità quando curiamo, quando dobbiamo fare la diagnosi, quando dobbiamo fare la pianificazione. Uno. E segno 20? Così? Non lavoriamo più. Un asilo nido diventa. Ci serve serenità quando lavoriamo e per questo serve tutta la informazione che c'è prima. Noi non avremmo mai potuto fare solo questo tipo di chirurgie complesse a questi livelli se prima non avessimo avuto tutto un carro armato di informazioni che ti faceva un super filtro. Qua arrivano pazienti che sono già informati, responsabili, che sono pronti a giocare la partita e che sanno che non sarà facile. Invece pazienti che non sono responsabili, che pensano che tutto sarà una passeggiata, che i denti saranno uguali a quelli che avevano prima, oppure che non avranno più problemi, che potranno continuare a fumare come vogliono, pazienti che potranno pagare come vogliono, metto oggi un impianto e ti pago questo, poi lo vediamo, torno fra due anni a fare il resto. Però se mi si rompono i provvisori è colpa vostra. Pazienti che meglio che neanche entrano, o meglio che avanzano nel processo poi di arrivo al policlinico. E qua chiedeva perché non mi mandano il preventivo? Che senso ha mandare il preventivo? Qua l'abbiamo risposto. Risultati bloccati sul sistema, causa comunicazioni col personale, offensive, parolacce, se risolvere e decidere con chi entrare in rapporto in cura. Un rapporto iniziale, maleducato, preclude categoricamente la presa in gestione della pratica, perché non ci sono i presupposti, ci troviamo dall'altro lato personale che prende 350 ore al mese, 8 ore al giorno, è davvero da fargli una statua per quello che fanno, con magari clienti dall'altra parte del telefono che li trattano male, ma non ha senso. Preferisco, guarda vai avanti, vai avanti, vai in stress psicologico, vai in stress emotivo, il dottore, il chirurgo anche magari non si sente a suo agio a curare, anche lui può decidere su chi lavorare, noi non possiamo obbligarlo a curare magari uno che lo tratta male, che gli dice di peste di corna. Loro gli dobbiamo creare un ambiente di lavoro sereno, perché è un lavoro delicato questo. Queste le ragioni del blocco dei preventivi, un preventivo occorre comunque una diagnosi, dunque una visita in Moldavia, ma risulta al blocco sulla pratica, quindi non ha senso che vieni neanche, quindi che senso ha inviartelo. Magari poi va in giro col preventivo a dire è troppo alto, è quella cattiva reputazione, magari che l'informazione che fa potrebbe precludere la strada a altre persone che invece sono più formate. Ci sono quindi tanti, tanti video, tante informazioni se ve lo siete mai chiesti perché siete arrivati a noi, la chiave di tutto è perché siete stati informati, siete mediamente molto più informati di tanti altri malati su quello che dovete fare e quello che avete fatto. Siete persone che si sono aperte il computer, si sono presi un bel po' di mesi a guardare video e a capire che cosa è la piorrea, cosa sono le ricostruttive della bocca, come vengono ricostruiti i denti, cosa è superior, per esempio, come vengono ricostruite le linee dentali, quelle che sono le linee dentali, che c'è la ceramica ma c'è il composito, possono essere 4 o 6 impianti ma che servono anche i denti avvitati. Chiedete voi a un paziente, magari se curato altrove, che denti hai in bocca, avvitati o incollati? I denti ti piacciono? Ho mangiato la pizza ieri, ma era una pizza o aveva la forma di pizza? Ci sono alcuni trattamenti semplici dove si può sorvolare su certe cose, ma quando si vanno a fare arcate complete come questa, questa è incollata perché sono fuori i perni da qui, scelte di cura come questa poi fanno nascere tutta una serie di problemi dopo. Quindi il paziente che magari ha scelto Croazia perché era 5 ore di macchina, a parte di qua ci arrivi in 2 ore d'aereo, quella piccola scelta lì farà sì che il paziente in caso di problemi non può più svitare i denti perché sono incollati. I problemi per esempio di denti incollati sono se c'è chipping, scheggiatura, io non posso svitare, aggiustare la ceramica e riavitare. Se riesco a toglierla è perché devo smartellare. Quanti voi hanno mai provato il martelletto del dentista, quello che smartella? Tunk, 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 trac, rotta la ceramica, ok, rinizia, c'è da rifare il lavoro, si è rotta. Oppure c'è il rischio che la vite che passa qua in mezzo, quando vai a smartellare, si spacca, si taglia in mezzo. A quel punto devi svitare via l'impianto tutto, carotarlo, perché non è che lo svita, va carotato via. Quando vai a fare questi lavori è per risparmiare 15 Euro a pezzo, 15 Euro qua, 15 Euro qua, 15 qua, 15 qua, ha senso? Per 15 Euro andare a fare questa scelta di terapia? Io voglio i denti che è un domani, che sono come le gomme della macchina che si possono rompere, usurare, bucare, li devo poter sostituire, ma questo devo prevedere quando vado a fare il progetto, devo prevedere, non che per risparmiare 10-15 Euro mi faccio, che ne so, la macchina con le ruote incollate, che se buco devo cambiare l'auto, oppure la posso riempire con, come si chiama, quello spray proprio da buttare la ruota. Queste sono belle da vedere, ok, hanno fatto un bel lavoro, buone traslucenze qui, ma sono denti incollati, noi stiamo educando qua in questo gruppo di modo da far vedere che c'è pizza e pizza, questa è pizza, anche questa è pizza, facevo vedere anche giovedì scorso c'è, chi è mai andata a mangiare a Napoli da Michele la pizza? sono due pizze, gli americani preferiscono questa, a noi ci fa venire la colina in bocca questa, questa un po' meno, anche questa è una pizza, questi sono denti, per noi questi sono denti, ok, sono diversi, però il paziente che non è istruito visivamente, che non gli abbiamo fatto il lavaggio del cervello prima e dopo, se io ti metto un polmone grigio dicevo, il grigio, se però di fianco ti metto un polmone sano, dici, quello è malato, serve visivamente andare a istruire, a calibrare l'occhio, quando pubblichiamo sui gruppi internazionali questi lavori ci fanno i complimenti, questi sono altri, Damage & Coats, qua dentro un gruppo chiuso dove ci sono i migliori odontotecnici al mondo, gente che fa le protesi, questi sono i nostri casi, questo è il superior, siamo a livello di iperrealismo, non posso questi chef e farli lavorare per una persona che cerca la pizza, ok, deve capire quello che sta facendo, perché se noi facciamo questo è perché sappiamo qual è la difficoltà di casi come questi, se non gli approcci così, quegli altri, che vi ho fatto vedere prima, si rompono tutti, stai creando dei grossi problemi qua, grossi, grossi problemi, sono da denuncia, perché poi il paziente si ritrova la pizza in bocca, ok, però c'è 5 stelle. Per arrivare a questo livello di risveglio, a parte che c'è due strade, o ti dico tutta la verità, oppure in maniera irresponsabile, fai come vuoi, in base alla vicinanza, oppure in base a quelle che sono le recensioni di, oppure aver sentito il parente, l'amico, oppure inizia a studiare, per studiare dovete fare il corso in odontoiatria, oppure possiamo noi semplificare le cose con un linguaggio semplice, in maniera visiva nel gruppo, con le mail, iniziamo a fare quel percorso di istruzione minimo, i fondamentali sul gruppo, c'è anche la… non so quanti di voi lo stanno seguendo, abbiamo fatto anche le unità, se voi andate sul gruppo riabilitazione estreme della bocca, ci sono 31 unità qua da studiare, il percorso del policlinico, gli impianti, il pecton, il protocollo di mantenimento, garanzie sui lavori, risoluzione dei problemi, centri assistenza, liste d'attesa, come si legge il preventivo, passaporti implantari, dagli appartamenti anche dove si trova l'alloggio, c'è tutto spiegato, di modo che il paziente che arriva qua sia iperistruito, perché vi ho spiegato essere iperistruito, il paziente quando arriva stiamo già partendo da 7, da 8, abbiamo solamente da parlare, ok, mettiamoci al tavolo e vediamo le impronte, le foto e quello che c'è da fare, significa risparmiare tempo quando siamo poi qua a scegliere e andiamo già da un mindset più avanzato, il mindset che so che ho un problema, so come va risolto, so di cosa ho bisogno e anche quanto devo faticare, si tratta solamente di iniziare la chirurgia e poi 4 mesi per iniziare a parlare di protesi definitive, da quel momento in poi, infatti vi dico sempre a loro, guai parlare al paziente di linee definitive e di caratteristiche se ancora deve fare la chirurgia, perché gli inizia a fare venire in testa tanti dubbi, non è il momento, quello è il momento invece in cui bisogna parlare di ricostruttiva dell'osso, impianti dentali, come metterli e dove metterli, carico della protesi provvisoria, se mettere la mobile o già la vitata provvisoria e di quella che dovrà iniziare a essere l'alimentazione, poi dopo, quando è passato la fase dei provvisori, dopo 4-6 mesi, allora iniziamo a parlare di quella che è la fase della restaurativa finale e quella è tutta una serie di informazioni che devono arrivare dopo che il paziente parte, quando il paziente parte ok, iniziano tutte le informazioni di preparazione per lo step finale, senza le informazioni noi non saremmo mai potuti riuscire a fare questo genere di lavori, perché per fare questo genere di lavori, vi ripeto, c'è bisogno dall'altra parte di persone che lo capiscono, quello che stanno facendo, è come il ristorante, ci sono gli chef, ma dall'altra parte deve esserci chi capisce quello che sta mangiando, se no che lo cucini a fare, ti passa la passione di farlo, a quel punto mi metto a fare quelle cose lì, mi metto a fare, tanto lui non capisce nulla, non hai capito che per arrivare a quello c'è bisogno di parlare la stessa lingua, ma le persone gliela puoi insegnare la tua lingua se ti prendi il tempo, noi abbiamo un sacco di tempo prima che il paziente arriva, da quando entra in contatto, non è che voi ci avete mandato la richiesta, il giorno dopo eravate qua, sono passati mediamente un mese, tre mesi, anche chi un anno dopo, due anni dopo, chi viene ci controlla, ci fa una visita, vede e poi inizia tutte le informazioni, inizia a capire quello che ha bisogno e capisce che magari il preventivo che gli avevano fatto lì era solo per 4 impianti, ma i denti poi guarda bene erano in resina, quindi erano dei denti in plastica fondamentalmente e se non si fermava un attimo e si faceva un po' di informazione non capiva che quelli erano dei provvisori che gli stavamo vendendo per definitivi. L'informazione è importante in questo mondo di conflitto di interesse, perché se non ci fosse, se tutto fosse gratis, che te lo dava lo Stato, allora avevi il miglior trattamento per cui non devi spendere soldi e lo Stato magari aveva i medici pagati per fare il miglior trattamento con quality center che controlla quello che fa il medico, hai usato il miglior materiale, hai fatto la miglior pianificazione, no ti tolgo la licenza, non operi più. Ma i materiali costavano troppo, come te li doi i materiali che sono stato, perché non li hai usati quelli? Perché non ne hai messo 8 impianti? Perché non ne hai ricostruito l'osso, è perché mi costava l'osso e non c'aveva i soldi, no te lo sto dando io l'osso, ma così non guadagno abbastanza, ma tu sei medico, ti do lo stipendio statale, non vuoi più fare il medico, fai altro. Quello è il conflitto di interesse, ok, il conflitto di interesse purtroppo genera la diffidenza nel medico, che è quello che mi sta dicendo forse perché è quello che gli conviene. E molti di quelli che fanno, che si accontentano di fare le cose alla bene e meglio, sono medici che non sono disposti a fare anche i psicologi e i medici informativi prima ancora di iniziare le chirurgie. E l'informazione è la prima terapia già che stai facendo, la calibratura psicologica del paziente è il primo step da fare prima di andare in sala chirurgica, altrimenti lui non sa cosa sta facendo, non sa perché lo sta facendo, non sa quali saranno i risultati e quali saranno i rischi. Voi avete firmato un mazzo così di fogli prima della chirurgia, se io prendo una cartella in mano sono più di 60 fogli, informazioni lì, tutti i consensi informati, con tutto quello dell'asteroide che può cadere, c'è tutto lì. Meglio in più che in meno. Come il sistema reputazionale, secondo voi visto che abbiamo parlato di questo oggi, di reputazione, di quanto sia difficile lavorare con la reputazione pubblica, secondo voi lavora meglio un ristorante che sta su TripAdvisor oppure che manco c'è su TripAdvisor? TripAdvisor. E se tu entri col cappellino di TripAdvisor al ristorante, come ti trattano? Bene, ti mettono il tappeto rosso, sono obbligato. E se io metto il ristorante, la cucina in mezzo al ristorante, tutto a vetri? Ancora meglio, perché vedi che va... Certo. E se io faccio il programma cinema dove i pazienti li faccio diventare degli attori, come li dobbiamo trattare? Ancora meglio. Ancora meglio. E se tutte le pareti della clinica le faccio di vetro? No, poi l'ho vista. E se tutti i pazienti, in realtà non sono pazienti, ma noi li vediamo come dei micro reporter che con lo smartphone possono fare reportage e possono aprire tutti i cassetti e fare una foto e mandarla su WhatsApp alla stampa, Repubblica. Pubblicità, grazie. Pubblicità. Il sistema reputazionale, c'è una cosa che succede e me ne ero reso conto quando vivevo a Roma, stavo a Via Palestro, vivevo. E lì c'è il migliore ostello di Roma, che a me ha sempre ispirato poi in questa clinica che ho fatto, si chiama Yellow Hostel. Anche da poco ci siamo riandati, abbiamo pernotato all'ostello proprio, Yellow Hostel Roma. Con tutti loro siamo andati, perché con Inga, Iana, Vasile, perché volevo fargli vivere l'esperienza di questo posto e loro sono al primo posto come ostello per un motivo. Perché non sono un ostello, sono prima di tutto experience. Noi ci ispiriamo a loro. Chi va a Roma può andare a dormire in un letto oppure può vivere una settimana indimenticabile. E loro organizzano, addirittura fanno non solo i corsi di cucina, fanno i corsi di taglio dei capelli, fanno feste sul teta pericena come faremo noi qui sopra, coinvolgono le persone che ci sono, tutti sanno fare qualcosa anche in questa stanza. Se io ora mettessi uno di voi qua a spiegare, ci potete fare una lezione su quello di cui vi occupate. Perché non dare il microfono anche a voi e passare una settimana tutti a imparare cose diverse. Magari c'è chi è architetto, a me piacerebbe fare un paio di ore per esempio di architettura, non li ho mai fatti. Oppure c'è chi è artista, mi piacerebbe suonare la chitarra, non ho mai avuto il tempo. Vorrei imparare a leggere uno spartito. Condivisione, sharing, loro fanno sharing di quelle che sono le persone che ci vanno lì e quello che possono dare agli altri. E si crea un gruppo. Il gruppo è il cameratismo e come vi dicevo prima, l'experience è fare un percorso insieme con tante persone che hanno lo stesso problema, si aiutano a vicenda e magari non hanno paura stasera di andare tutti a cena in un quartiere sconosciuto. Perché tanto sono in dieci, che ci può succedere? E loro hanno qua lo yellow, tutto questo sistema, loro insegnano addirittura proprio come fare experience per il turismo. Di fronte c'era un ristorante, questo è lo yellow come di sera, anni fa è qui che ho imparato io l'inglese. Io vivevo di fronte perché era il periodo che dovevo fare tutto questo progetto e mi serviva una città che fosse centrale dove raggiungevo tutta Europa, ma dovevo stare centrale. Ed era Roma, Ciampino, Fiumicino. A Roma più centrale cosa c'è? Termini. Vicino Termini c'è via palestro. Allora avevo cercato anche, avevo come obiettivo quello anche di socializzare perché se non avessi socializzato mi sarei ammazzato. Mi ero appena lasciato con l'ex e ho detto ok vado e devo farmi nuovi amici. Oggi c'ho un sacco di amici in giro per il mondo, conosciuti all'Oielo, che mi ospitano, quando vado in giro li passa a salutare. C'è uno addirittura che sta in California, c'ha gli studios lui in California. Io uscivo da lavoro e tre volte a settimana scendevo e mi spiegavo a parlare in inglese con turisti da tutto il mondo. Una birra, due birre, parlavo inglese. Ok. E l'ho imparata in sei mesi, boom. Poi la notte dormivo con la CNN accesa. Dopo sei mesi io parlavo inglese, americano, australiano, parlavo, capivo tutte le inflessioni, capivo. E lì di fronte, quando poi andavo la sera a cena, vedevo sempre che c'erano due ristoranti, uno pieno e l'altro vuoto. Sempre vuoto. Altro sempre pieno e l'altro sempre vuoto. L'altro sempre pieno. Guardavi i menu erano identici, uguali. La stessa cosa. Perché uno c'aveva le recensioni? Punto. Nell'era reputazionale succede questo, che c'hai una distribuzione, infatti se notate il mondo è iniziato a diventare più ricco e più povero quando è iniziato Internet. Perché con Internet, col sistema delle reputazioni, delle recensioni che guidano tutto il mercato, le recensioni, hanno iniziato a lavorare tantissimo in pochi. Ok, chi c'aveva recensioni alte? Qua tutti gli altri ristoranti. Qua ce n'era uno, affollatissimo. Sistema delle recensioni. Dove che c'è più smercio? Che la roba è più fresca? Dove che c'hanno macchinari migliori? Qua. Ok, dove che diventa pericoloso ti prendi la salmonella? Qua. Perché non c'è afflusso, non c'è giro, non c'è potenza di investimento, non c'è ricambio, non c'hai supporto. La era reputazionale ha permesso a chi vuole eccellere di poter eccellere. Perché su Internet, con un telefono, se tu eccelli e vuoi fare bene, si vede. Vai subito, scali subito la montagna. Tutti gli altri, se accendi il telefono sulla sterilizzazione rotta, vai subito giù, fai il contrario. Quindi le recensioni ti obbligano a essere, si dice, non normale, non buono, non eccellente. Straordinario devi essere. Oggi non c'è più posto ed è il motivo della grande povertà che c'è nel mondo, per il fatto che c'è molta più offerta oggi. O sei straordinario o non lavori. Non c'è più spazio per i mediocri, non c'è più spazio per il buono. Io sono stato un buon marito ma ha messo le corna. Sei stato straordinario, ero buono. Ecco perché. Ti devi svegliare ogni giorno e dire, devo essere straordinario amico, straordinario fratello, straordinaria sorella, straordinaria moglie, straordinario compagno, straordinario datore di lavoro, straordinario leader. Non mi metto sopra loro, andate, camminate e portatemi. Mi metto davanti, guardate, apro la porta, seguitemi. Così si fa. E quello è un lavoro straordinario che stiamo facendo ogni giorno, perché loro sono straordinari. La squadra sono una squadra di chirurghi, protesisti, Inga, Iana, ma tante altre persone che non conoscete, che sono dietro le quinte, che sono straordinarie. E succede una cosa straordinaria quando tu metti a lavorare tante persone che sono fuori classe tra di loro, che non gli è mai capitato di lavorare con persone fuori classe e gli piace. Se invece inizi a lavorare, che tu sei un bravo giocatore di calcio, ma c'hai tutta gente che non ha voglia, alla fine dice, ma andatevene, ascolta, io cambio squadra. E questo attira cosa? A sua volta gli altri cervelli che vogliono lavorare con noi. Tutti vorrebbero lavorare qua. E creiamo un ambiente di lavoro straordinario, stile Google, dove non è che io vengo e controllo se tutti i responsabilizzati, dove tutti sanno che hanno il riflettore, i videomaker che stanno facendo i video, che stanno facendo le foto. Ogni singolo caso, ognuno di voi è stato fotografato. Perché? Perché su ognuno di voi ci deve essere acceso il faro. Siete come tante piccole star che dobbiamo seguire. E quando tu segui fotograficamente i casi, impara la squadra, imparano e migliorano i tecnici, migliora il chirurgo e soprattutto abbiamo cose da pubblicare. Sia per il marketing, che per i dottori, che per i corsi. Che ci facciamo vedere a livello globale, come vi ho fatto vedere lì per esempio un gruppo Dama Jet Gods, e lì iniziamo a tirare le persone che vengono qua a fare i corsi. Vengono le persone che riconoscono che riconoscono quanto siamo bravi. Ci mandano le... a me personalmente mi arrivano richieste da... persone che sono veramente influenti a livello mondiale. Una è arrivata l'altro giorno. Marco Esposito. Lui. Lui che manda a me la richiesta amicizia. Cioè io lo studiavo quando ero studente. Lui è stato uno dei revisori più famosi che c'è, ma non in Italia, al mondo. Marco Esposito. Lui non opera più come dentista. Lui prende le bibliografie, tutti gli studi fatti, li mette tutti insieme e tira un'analisi. Rettrospettiva. Da lì a 30 anni, da lì a 20 anni. Uno scienziato, questo revisore di quelli che sono i risultati ottenuti. Lui che manda a me la richiesta amicizia. perché ha visto delle ricerche che stiamo facendo. Abbiamo pubblicato dei casi dove era in Soce. Lui anche ha studiato a Göteborg, Pavia. Andatevelo a vedere questo. Marco Esposito. Se voi andate... lo faccio vedere qua. PubMed. PubMed è praticamente il sito... quando noi dobbiamo adottare dei protocolli nuovi, andiamo a vedere su PubMed qual è lo storico. Si usa questo materiale. Ci fanno qualcosa che ci hanno fatto, funziona. Solo sugli impianti dentali 237 pubblicazioni ha fatto. Ok. Lui è un ricercatore, si potrebbe dire. Un revisore del Vangelo. Quegli e sui protocolli che vanno usati. Per quale motivo? Perché pubblichiamo su internet. i casi, li diffondiamo. Ce n'era uno pubblicato da poco qua. Questo già è uno nostro. L'altro era questo. Ottimi lavori, complimenti. Ci fanno i complimenti qua. In questo caso facciamo vedere un nuovo protocollo che ci abbiamo messo praticamente tutti questi anni per sviluppare questo. Questo è il nuovo accoppiamento che abbiamo fatto. Titanio, pecton, disegnato tutto in 3D. Queste forme sono tutte fatte col computer. Rivestimento poi prima in ceramica e poi in composito. Titanio, pecton, ceramica. Questa stiamo mettendo qua. Il composito che stava qua fuori, questo rosa e sopra lo zirconio. 5 materiali accoppiati per arrivare a questo risultato. L'hanno visto e hanno detto che cavolo sta succedendo in Moldavia. Che stanno facendo? Si stanno sbizzarrendo troppo. Che sono queste cose qua. Perché non è lo standard questo. Vediamo qua. Questo gli abbiamo caricato il progetto di questo lavoro. Come l'abbiamo progettato. Questi erano i gussi di zirconio. Questo è il livello di struttura come l'abbiamo progettato con protocollo di telemedicina. Questo. Hanno paura. Perché stiamo andando molto avanti. Perché stanno convogliando qua i ricercatori. Stanno convogliando. Stiamo facendo in un paese detassato, defiscalizzato, cose che altrove non potremmo fare. Ok. Cosa è così? Lì costa troppo farla. Non la fai. Fai cose semplificate. Cose semplificate. Te le faccio vedere qua. Basta sfogliare le fotografie. Allora. Ecco qua. C'è un filo metallico. Perché? Perché il resto è plastica. E' del radio trasparente la plastica. Bei denti di plastica. Struttura interna metallica. Andiamo sotto. Ne vediamo altri. Questi sono i nostri. Questo è l'altro nostro. barra. Quattro impianti davanti. E sopra. La dentiera attaccata. Questa è una dentiera. A casa mia. Non è una soluzione moderna. Ok. Ed ecco qua. La dentiera è in posizione. Questi. Denti metallo ceramica. Avvitati o incollati. Questi sono i fori passanti dei pilastri standard. Denti incollati. Si vede anche qua. non ci sono. Mancano i fori qua. Di passaggio delle vite. Il paziente è curato sotto? O solo sopra? È corretto? A metà. Perché poteva pagare quello. Il low treatment non è vietato. Voglio curarmi solo metà bocca. Ok. Lo facciamo. Mastichi. Perché metti tutti questi impianti se sotto non... Sono casi fatti a metà questi. Questa è una protesi di plastica. Quella vi faccio vedere prima. Questa è plastica. Prova a spegnere queste luci. Vediamo. Vi faccio vedere proprio la... Si vede in trasparenza qua. La barra. Filo unico. Eccola qua. Che viene elettrosaldata. Ha un cilindretto che poi si avvita sull'impianto. Questo è paleolitico per noi. È paleolitico. Se io lo faccio vedere loro, qua di fianco, Dico, ma che è sta roba. L'estetica che manca. Uno alto, uno corto. Questi che denti sono in? Plastica. Plastica. No, questi sono avvitati. Vedi che qua c'hai fuori passanti, però è plastica. Questa non c'entra niente con linea superior. Superior stiamo parlando di 5 materiali differenti, tutti avvitati, con titanio, con zirconia, sopra. Ehi, ma costa troppo. Cosa ho trovato a 200 euro in meno. Sì, ma quelli sono plastica. È una qualità diversa. E stiamo parlando di cose che se non ci perdo tempo a spiegartele, non capisci queste differenze. Questa è plastica, una ciabatta di plastica, un monoblocco di plastica che ti è stato avvitato sopra gli impianti. Quattro impianti sotto. Non ce ne stavano qua altri due, uno, due, tre, quattro. Perché devo fare cose semplificate quando la natura è più complessa. Noi quante radici abbiamo? 28, 32 con i denti a giudizio. Noi dobbiamo emulare la natura. In natura non c'hai quattro... È un dentone unico. Ne dobbiamo già, con materiali artificiali, andare a simulare cose molto complesse. Andiamo ancora. Questa c'ha la barra interna. Ok. No, non è... È sempre cromo cobalto, questo avvitata, fatto bene. Questa c'ha... Praticamente viene messa in un bagno di elettroni che vanno a depositarsi e condizionano il colore. È un po' come viene fatto tipo all'ottone. Si mette in un bagno con una corrente elettrica e diventa di quel colore là. Il problema è che fuori c'ha il PMMA. PVC. Noi lo usiamo massimo sei mesi come provvisore. Qua è stato dato come definitivo. questo si consuma. Non puoi magari far spendere tanti soldi e poi mettere in bocca delle cose di lei del pagamento. E sorrò, vai, facciamo un altro lavoro più resistente. Quanto è? Faccio il preventivo. Il preventivo iniziale era più basso. quello è uno degli scopi, uno degli stratagemi. C'è un video proprio che ho fatto. Io so tante cose. Perché so tante cose? Perché quando ero a Roma viaggiavo e stavo facendo, vedete, tutte queste playlist qua. questo è il Rident. Quanti di voi conoscono il Rident? Il Rident è un grosso policlinico. La Croazia stanno loro, no? Io giravo quegli anni. Quello ero io. L'avete visto? C'avevo 25 anni, c'avevo 10 anni fa. So io qua. Un saluto a tutto il gruppo, la pagina qua, chi ci vede. E ci vediamo giovedì prossimo.